bella ragazzi allora vi annunciamo che stiamo utilizzando un paio di microfoni forse questo l'audio di questo video sarà migliore rispetto ai precedenti spero se vi interessano questi microfoni vedete il link in descrizione e questa volta vi parliamo dei diodi allora qua abbiamo un po vari di odi anche qualcos'altro qua abbiamo l'oscilloscopio e qua abbiamo lo schema del circuito a cui abbiamo collegato l'oscilloscopio abbiamo un variac che questo un trasformatore che questo due resiste resistenze dei collegamenti e l'oscilloscopio allora il variac ci permette di regolare la tensione sul primario di questo trasformatore che al massima tensione 220 da 48 volt in uscita poi il capo del trasformatore va al comune dell'oscilloscopio l'altro capo qua c'è una resistenza di limitazione della corrente tramite una resistenza da 47 kg va sull'asse x ed è questo che vedete vedete questa tensione che stira al punto andare avanti indietro un mandamento sinusoidale dovuto alla 220 alla 50 e della rete allora poi abbiamo il nostro diodo in prova che noi inseriamo qua e abbiamo una resistenza shunt da 220 kg 220 ohm scusate ai capi della quale abbiamo messo l'asse y cioè questo che poi da in verticale se noi cortocircuitiamo qua andremo a vedere un po' stolta perché c'è una caduta su sulla resistenza vediamo diciamo l'asse y allora noi prendiamo un comunissimo 1n 4.700 tocchiamo il più raro il mio notato e qua vediamo il classico grafico del diodo dove abbiamo allora abbiamo la tensione che quando da al centro abbiamo zero quando viene polarizzata positivamente con la sinusoide che vada più o meno chiaramente dovuto al prodotto al trasordatore abbiamo subito un passaggio di corrente il diodo conduce direttamente poi poi la tensione diventa negativa lo polarizza inversamente e abbiamo nessun passaggio di corrente questo qua è il classico grafico che si studia anche sui libri di scuola sui diodi sui libri delle scuole tecniche ora prendiamo un 1n 4148 vediamo la stessa lo stesso andamento prendiamo questo vecchissimo diodo automotive che ecco l'anno di questo il capo di questo abbiamo lo stesso lo stesso grafico allora ora andiamo a finire in un vecchio diodo zener e facciamo una cosa abbassiamo la tensione prima era sui 24 volte anzi la passiamo ancora lo colleghiamo ora vediamo che si sta formando il grafico del diodo conduce in un senso nell'altro no ma a un certo punto a un certo punto anche in negativo conduce ora apriamo un po alziamo questo questo è il classico grafico del diodo zener in senso diretto conduce in senso inverso non conduce fino a quando non raggiunge una data tensione che la tensione di zener dove avviene la valanga e sia la conduzione ora se noi prendiamo un diodo zener tipo quest'altro vediamo la stessa cosa più o meno ecco vediamo circa la stessa cosa si prendiamo un diodo zener moderno tipo questo dobbiamo spostarci con questo diminuiamo un attimo l'amplificazione posizioniamo qua alziamo la tensione e vediamo quanto è più ripida in uno zener diciamo recente quanto è più ripido il un angolo secco il punto di intervento dove avviene la valanga quindi sono molto migliorati rispetto quelli antichi quando abbiamo un altro da me non stiamo a farlo vedere adesso riduciamo portiamo un attimo di nuovo al centro abbiamo un led il led è un diodo e si sa che nel senso inverso i led non fanno luce nel senso diretto fanno luce nell'inverso non fanno luce ma resistono una tensione abbastanza bassa intorno di solito ai cinque volt quindi colleghiamo il nostro led e vediamo cosa succede aumenta la tensione funziona da diodo emette una piccolissima luce perché la corrente piccola a un certo punto si comporta come uno zener e infatti a volte si può anche usare un led come zener se non si trova niente non sono molto stabili con la temperatura ma in mancanza d'altro è intorno ai cinque volt questo punto di valanga possiamo anche usare un altro led ma questo qua è particolare questo led qua è un po particolare alziamo al massimo la tensione come vedete è come se avesse in serie un diodo non non scarica diciamo quando è polarizzato negativamente non passa quasi corrente è strano perché normalmente non hanno questo questo comportamento questo è un diac sono quei diodi diciamo più che diodi sono semiconduttori bidirezionali non sono proprio diodi che non lasciano passare la corrente fino a un certo punto quando raggiungono sia in positivo che in negativo una data soglia scattano come un interduttore e conducono fortemente anzi dal punto di scatto quando cominciano a condurre addirittura scende poi ancora la tensione hanno inoltre una resistenza negativa eccolo qua facciamo una cosa ok guardate ecco arriva ai due estremi negativo e positivo al punto di conduzione succede che conduce e carica tanto il circuito che facendo la tensione crea questo questo bel fenomeno di resistenza negativa allora adesso facciamo dire ancora un componente questo è un vdr sono quei componenti che si usano per limitare la tensione per assorbire transitori scariche elettriche proteggere i circuiti questo qua mi pare che intervenga sui 12 volt lo colleghiamo e alziamo la nostra tensione vediamo cosa succede a un certo punto conduce nei due sensi però non ha il fenomeno di resistenza negativa come aveva il diac abbiamo chiaramente una resistenza positiva ma molto bassa e questi qua resistono anche delle punte di corrente molto elevate per breve tempo riescono a mangiarsi i disturbi transitori scariche elettriche dunque ora cominciamo con qualche diodo del passato qua abbiamo una 5 v4 è un doppio diodo a riscaldamento indiretto che si usa si usava negli alimentatori delle radio e di apparecchiature elettroniche questo qua lo uso in un mio alimentatore che costruito che si vede in un vecchio video dei nostri vecchio non nemmeno tanto ora diamo tensione bianco legato al positivo all'anodo e il negativo al catodo e il catodo vedete che è acceso si vedono queste lucine faccio così ok i catodi sono accesi ora diamo tensione al sistema che ci farà vedere benissimo questo fenomeno qua anche qua abbiamo una caduta di tensione iniziali come abbiamo nei diodi al silicio questa qua è dovuta alla forza estrattiva della nube diciamo dell'anodo rispetto alla nube di elettroni che si trova intorno al catodo rovente che è rivestito di ossidi particolari per emettere più elettroni adesso però facciamo dire degli degli altri diodi mettiamo questo qua con sicurezza lì c'è anche questo questi quali leviamo alla tensione bassa buttiamo su no è al contrario questo qua un diodone al silicio fa il suo lavoro come l'1n 4007 d'altronde ora qua abbiamo dei diodi al selenio un elemento solo di selenio ora vedete una cosa bruttissima che adesso ve la spieghiamo come vedete più o meno il comportamento è quello del diodo qua siamo sullo zero qua diventa positivo conduce qua diventa negativo a un certo punto inizia a condurre perché la tensione di soglia di questi redorizzatori al selenio intorno ai 25 volt questo sdoppiamento è dovuto a un condensatore virtuale che si trova in parallelo la barriera diciamo di semiconduttore ha una capacità nel selenio una capacità elevatissima è come se ci fosse realmente in parallelo un condensatore adesso vi faccio vedere che metto un altro condensatore in parallelo se guardiamo un attimo lì aumenta aumenta proprio il fenomeno nello stesso senso quindi è la capacità che sdoppia sfasando i due segnali sulle ascisse sulle ordinate qua abbiamo dei piccoli elementi al selenio possiamo vedere la e fanno tutti la stessa cosa anche questo questo qua un po una capacità un po più bassa possiamo tirare un po sulla tensione diminuire questo ecco vedete sui 25 volt lui comincia a condurre facciamo vedere ancora questo questo è un raddrizzatore a ossido di rame sono tutti dischi di rame che sono stati ossidati ad alta temperatura su questi dischi di rame nella parte conduce il rame dall'altra c'è l'ossido che è rivestito di un dischetto diciamo una piattina di una lega di stagno e della graffite per avere un buon contatto allora vediamo cosa fa una sezione intera eccolo qua ha una forte dispersione ora però andiamo analizzare pochi elementi vedete hanno più dispersione a un certo punto alziamo un attimo la tensione al massimo allora avviciniamoci ecco vedete che un certo punto va giù tantissimo adesso qua c'è un solo elemento intorno ai sei volt comincia a condurre molto nel senso inverso quindi ci vanno tanti dischi per fare una buona tensione ora vi facciamo vedere un apparecchio che serve per misurare tanto a riconoscere serva di conoscere i componenti riconosce vari componenti anche misura induttanze capacità di condensatori resistenze individua se è un diodo un diodo come avete visto dava le caratteristiche adesso ecco qua dice la tensione e la corrente la tensione di conduzione e la corrente sta passando di dispersione diciamo ora prendiamo ad esempio vediamo se riconosce questo diodo qua al selenio non lo so se è progettato per riconoscerlo vediamo un po cosa da di dispersione di tensione di conduzione vediamo e se le riconosce ci sta pensando ci pensa un po' tanto qua è a posto tutto non vuole riconoscerlo ah ecco l'ha riconosciuto ci ho messo un po' dice che è una tensione di conduzione di 3,88 millivolt e una tensione di inversa di 9,8 mili ampere o micro ampere adesso non ho visto bene va bene volendo possiamo anche vedere un'altra cosa allora questo è un pezzo di pannello fotovoltaico attaccato con della vernice argento su un pezzo d'acciaio se noi lo mettiamo qua sopra questo è una punta di filo di bronzo fosforoso con appuntito adesso mettiamo a posto la valvola nel suo alimentatore perché può servirci allora qua siamo a posto andiamo a toccare guardate già io ho tolto lui allora lui è drogato n mettendoci il filo sopra fa crea una barriera semiconduttore proprio sul punto di contatto e ci dà la sua funzione di diodo però adesso io prendo un condensatore da zero un micro farad lo vado a caricare qua facciamo un esperimento guardiamo il nostro alimentatore adesso siamo sui 280 volt continui carichiamo il condensatore ecco ho fatto una scintillina il positivo di qua noi scolleghiamo la misura e ha dato una scintilla guardate come è migliorato anche la conduttività del sistema è migliorata abbiamo una caduta molto minore abbiamo qua buono certo punto una caduta sulla massima tensione quindi non regge tensioni inverse molto elevate però abbiamo creato un drogaggio perché il silicio questo qua appartiene al quarto gruppo della scala periodica degli elementi questo silicio qua è drogato con alluminio facilmente infatti io avevo provato a mettere un filo di alluminio fare lo stesso lavoro della scarica e diventava un contatto atomico come fosse una resistenza mentre invece col filo di bronzo fosforoso noi spariamo l'alluminio ricordatevi è del terzo gruppo il silicio del quarto se noi gli spariamo del fosforo da questo filo come abbiamo fatto dando la scarica il fosforo penetra e va a drogare e forma una specie di giunzione e va a drogare il silicio e lo va a drogare più e quindi abbiamo un dio doppio efficace e da provare forse prossimamente lo facciamo a saldare una goccia di bismuto sul silicio bisogna stare molto attenti con la temperatura e tutto e vedere un po se si riesce a ottenere un diodo a lega al silicio allora se volete questo alimentatore si trova su internet ma ci sono anche degli oscilloscopi non dei cassoni come questo ormai a buonissimo prezzo digitali che riescono a fare molto performanti ormai perci buonissimi se volete vedere nei link mettiamo qualcosa se avete interesse questi qua purtroppo sono ormai introvabili e bella ragazzi bella ragazzi